Ciao Matteo, complimenti per il titolo e anche per la tua qualifica. Una gara con mordente, nel senso che hai morso l'acqua dalla prima all'ultima bracciata. Sì, io comunque imposto le gare sempre così. Le prime tre vasche mi vengono molto facili. Io lavoro tanto sulla tecnica di nuotata e sul portare il più a lungo possibile questo mio galleggiamento, possiamo dire, anche un po' naturale. Quindi tre vasche di solito mi vengono pressoché gratis quando metto i piedi al bordo a 150, iniziano i problemi e esce quello che facciamo in allenamento. Sono curioso di vedere poi con precisione quanto ho chiuso, però sì, ho aggredito da subito perché comunque sapevo che c'era un passo in palio che era raggiungibile perché comunque i riscontri mi facevano capire che ce l'avrei potuta fare e quindi ho detto non sto a aspettare nessuno, a fare nessun tipo di calcolo e sono andato. E allora complimenti. Grazie, grazie mille, ciao.